Buongiorno amici del Resto del Carlino.it, vicenda del Bono, seconda puntata, dopo le dimissioni del Sindaco e la paura che ci fosse un commissariamento immediato della città di Bologna con una durata presumibile di oltre un anno, le cose si sono modificate. Di tutto questo parliamo con Massimo Gagliardi, capo cronista del Resto del Carlino di Bologna. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E allora, dici intanto le novità che riguardano proprio Flavio del Bono. Allora, le novità, se parliamo del voto e della possibilità del commissariamento, sono che questa mattina il Ministro dell'Interno Maroni, deputato a presedere e sorvegliare tutte le operazioni elettorali, ha detto che laddove si registrassi il consenso di tutte le parti politiche si potrebbe procedere a un decreto, unica formula per poter indire nuove elezioni tra marzo e giugno. E poi però ci sarebbe un fatto nuovo, cioè la disponibilità dello stesso del Bono ad accelerare le proprie dimissioni. Sì, come dichiarato già ieri dallo stesso Sindaco, non ha fissato né un giorno né un appuntamento preciso, tutti lo abbiamo interpretato allo stesso modo, cioè l'approvazione del bilancio che potrebbe avvenire venerdì o al più tardi lunedì e quindi l'avvio dell'Inter elettorale. Stiamo però aspettando una parola definitiva. Bene, nel frattempo gli schieramenti stanno preparando in tutta fretta i loro candidati, sono stati tutti quanti un po' spiazzati dalla rapidità della vicenda in corso e dalle dimissioni dello stesso del Bono. Vorrei capire da Massimo, che è un attento osservatore di queste realtà, cosa succede nei cantieri del centro-destra e del centro-sinistra e quali sono i nomi che si fanno? Le diplomazie sono fortissimamente al lavoro e non da ieri, ma già dall'ultima, dalla settimana precedente, perché la partita è di enorme interesse nazionale, come ben si può capire. E come abbiamo visto. Ma è estremamente complessa per ambedue gli schieramenti. Partiamo col centro-destra, solo per dire che abbiamo dei giovani, come possono essere l'ex assessore al bilancio, onorevole Gianluca Galletti, dell'Udc, come può essere l'ex assessore alla giunta Guazzaloc al commercio e industria Enzo Raisi, attualmente onorevole del PDL. Due possibili carte da giocare per lo schieramento di centro-destra, ma le incognite sono parecchie di grande peso. La prima incognita è lo stesso Cazzola, che continua a ripetere di non volersi candidare, ma lo stesso Cazzola non è nuovo a colpi di scena e potrebbe anche cambiare idea. Anche perché lui è stato un po' il motore di tutta la vicenda. Certamente, in caso di suo ritiro lui ha già candidato il delfino Daniele Corticelli e quindi questa è una delle due variabili. La seconda è quella che si chiama Giorgio Guazzalocca. Non sono pochi quelli che vorrebbero che tornasse a Palazzo, nello schieramento di centro-destra e come abbiamo scritto oggi sul Carlino, qualcuno l'ha già sondato in merito, ricevendone in cambio un secco. No, mi correggo, non un secco no. Perché? Perché non siamo lontani dal vero quando ipotizziamo che in caso di un vasto consenso lo stesso Guazzalocca potrebbe ripensarci. Bene, adesso andiamo invece nello schieramento di centro-sinistra dove come ricorderete furono fatte delle primarie, naturalmente prima delle elezioni di Del Bono al sindaco e chi ebbe moltissimi voti fu per esempio Cevenini, è uno dei possibili nomi candidati. Cevenini sicuramente, ancorché iscritto al PD, l'outsider di maggiore successo, nel senso che è quello più slegato dal partito e comunque è una persona che si è costruita negli anni un'immagine che va ben oltre il partito. Ma questo ha allo stesso tempo il suo limite, il non essere di stretto servanza partitocratica lo rende in viso a quelli che invece preferiscono la nomenclatura vecchio stampo. Tradizionale. Se entriamo in questo campo l'ipotesi diventa complessissima da fare perché potete immaginare che in questi mesi il PD deve sistemare una regione, nel caso di Vittoria parecchi assessori da nominare e quindi figure che potrebbero essere elevate da un contesto bolognese per andare in regione. Così come c'è da sistemare una segreteria e quindi un segretario di federazione e quindi il comune. Ora i nomi sono diversi, però il gioco è ancora così complesso e così ante, siamo indietro, che è davvero complesso. Molto bene, ringraziamo Massimo Gagliardi, grazie Massimo. Grazie a tutti voi. Ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti.